Mega haul di tutti i gioielli che ho creato e realizzato per il mio brand. E' di partire subito con questi orecchini a cerchio che sono assolutamente stupendi. Il diametro è di 6,5 cm, ma gli orecchini a cerchio stanno proprio bene su tutto. Capelli lunghi, capelli raccolti, magari con un bel vestito, stile tango, magari con qualche ciuffo davanti, ma li amo. Questi si chiamano Giuseppina, in onore della mia nonna materna che amava le cose super femminili. Siamo agli orecchini della collezione Alice, che sarai io. Si ispirano alla natura, infatti vedete queste foglioline in argento 925, completamente riciclato. Si infilano così, hanno il gancetto e questo è il risultato. Danno una luce pazzesca. Tornata con il mio angioletto che si è appena tappato 15 agnolini. Brava. Sempre in argento abbiamo questa cascata di zirconi rossi. Tra l'altro l'apertura è molto particolare in quanto sono due orecchini che si incastrano in uno. Una parte va davanti e l'altra parte va dietro. Ed hanno questo bellissimo effetto cascata. Sempre della collezione Alice abbiamo questa bellissima collana con questa catenina, che secondo me è assolutamente stupenda, in argento e la foglia finale. Guardate la luce che dà semplicemente la catena. Sembrano quasi diamanti. Altra collana della collezione Alice è questo tripudio di foglioline, un po' choker, ma stupende. Guardate la luce che danno queste foglie in argento. Io sono ossessionata. Tra l'altro se uno vuole proprio, diciamo, riutilizzarla, potrebbe metterla anche come braccialetto. Ragazzi, Dulcis in fondo, meravigliosa parour con collana e orecchini abbinati, sempre della collezione Alice. Questa è la parour completa, che sta benissimo con un vestito magari a scollo a V o magari senza spalle o con le spalline scollo a cuore. Comunque lascia libero il décolleté e io ne sono ossessionata. Guardate la luce che danno gli orecchini, le foglioline sulla collana e il disegno e la struttura di questa composizione. Bellissimo. Bene, questo era un mega haul di tutti i gioielli che ho fatto creare per le collezioni Alice e Veneziani. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo presto con le collezioni Giuseppino Primavera Estate. Ciao!